Comunque è andata bene. Sì, sì. È qui? Sì. È qui è andata bene? Un aceno di sorriso che tradisce il dolore per la gamba spezzata. La consapevolezza che poteva finire peggio, a cui fa ecco la moglie, ancora in apprensione per quanto accaduto la notte scorsa, e che il brigadier Maurizio Biasin, 52 anni, con figli e nipoti, racconta così, con un fil di voce. Davanti a lui il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il presidente della provincia, che oggi pomeriggio si sono recati in visita al Caffoncello, poco prima del suo trasferimento all'ospedale di Castelfranco. Non volevo invadere la... No, no, non so. Mi vedei un guerriero, questo è uno dei piuttosto che abbiamo. Sì, me l'ha detto. È proprio lui che, insomma, quello che si vede anche fisicamente c'è. Però. Però anche te ti tocca. Non è andato a buon fine. Vabbè, dai. C'è stata un attimo di confusione, sono scarpati. Uno è stato preso subito, l'altro abbiamo cercato di bloccarlo e la macchina, visto la macchina, la macchina mi ha centrato. Una cosa appositamente, comunque, volutamente. Anche se eri disteso, comunque ricordo tutto quanto. Diciamo che non è andato come avevamo programmato tutto qua. Era stato studiato nei minimi particolari, però qualcosa in ultimo l'hanno cambiato. Però dai, alla fine, alla fine è portato a casa. Un risultato partito da lontano. Eravamo partiti da un nulla. Da un nulla poi l'hai sviluppato e nel giro di qualche settimana siamo raggiunti a questi. Sì, anche perché questi qua giravano qua nel Triveneto, penso, da diversi mesi, comunque. Diversi mesi. Tutti quanti furti in abitazione e altro, comunque. Torno a dire, guarda, l'importante, comunque, alla fine è portare a casa. E questo qua è successo. Perciò... Anche in nome di tutti quelli che subiscono furti ogni giorno? Ma è giusto anche per loro, comunque. Tu calcola che già ieri sera, comunque, quando li abbiamo fermati, erano già riseliti a due o tre proprietari che avevano subito il furto. Già là la gioia dei proprietari di vedere le cose proprie che sono state trasportate, penso che sia il massimo. Ora, per il presidente Murano, l'importante è che i responsabili non tornino subito in libertà. Mi auguro che quei delinquenti che adesso sono in carce rimangano per parecchio tempo, perché non è pensabile che questi uomini rischiano la propria vita e poi magari per le leggi nazionali questi criminali dopo due giorni o tre giorni escono.